se mi scappa via lo stivale vengo giocchio astio che bastardo cioè ma figaro no bisogna saltarsi in piedi e girarlo almeno che stronzo vai ecco così almeno adesso riempiamo e perché dopo sì a parte che qua in mezzo ci passiamo qua dici di no ma adesso togliamo questo non ho capito sono finiti tutti o sono andati a caccia lasciato quando vuoi e basta sei quanto ci vuole cazzo ho deciso di andare in giù anche perché se prepari qualcosa la prossima volta che arriva l'acqua pulisci via tutto invece se non lo fai non lo farai mai dopo qua arriva trova sgombero pulisci via tutto il passaggio ma se non glielo prepari resta dentro in fognata come qua e non lo farà mai tutto lì il problema no quello magari finché non muovi questi no si muove anche lui ma aspetta a vedere ci vuole lui ma che bello uno due tre portabottiglie c'è tutta quella roba qua che se non gliela togli l'acqua fa altro che quei buchi qua cazzo ci andiamo anche noi che dobbiamo fare o van su e scendono questo è già fatto quindi da qua c'è il passaggio e va bene lì avanti c'è il passaggio lì in alto che ci si può passare fuori basta pulirlo quindi è tutto qua è tutto tu devi essere da solo che l'ora ascolti se no non ascolti un cazzo l'unico passaggio stupido è questo però questo fatto lì possiamo salire da qua perché buttiamo giù quei quattro lì riempiamo qua di fianco andiamo in giù andiamo di là al buco ma ripeto se non ci mettiamo non lo faremo mai perché vedi che di qua si può già fare quando sali di lì sali da sta parte ma anche diritto vai su di lì andiamo in giù andiamo su di là ma anche di là non è che è ok se non devi pulire eh ok ma devo pulire i rami là eh sì ma non è che cambia Marco no cambia sì cos'è che cambia cambia che abbiamo una via d'uscita eh perché chiede che le no ok ecco 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 Grazie per la visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.